Ebbene, un bel buongiorno a tutti che stanno qui. Oggi voglio che apre la porca e se sta fuori. Vedi, manneggiano sei. Vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Ma scusatemi, giustamente questa, ogni volta, ogni volta io apro il garage, cioè apro la 70, questa deve uscire sempre, cioè questo mi fa svolare. Fammi fare il video, papà, e poi ti faccio uscire fuori, perché qui fuori c'è anche la strada. Questa, mo, c'è un brutto vizio e se non si toglie questo vizio, io la scuraccio. Non la falla mai, per fargli capire che non devo andare fuori, perché dietro c'è una strada che se esce là, puoi andare a litigare con le persone che poi l'ammazzano. Se posso andare alla strada, sopra la strada, passa la macchina e la trova sopra. Non devi fare così e non ti fa la faccia triste, non ti do le botte, è tranquillo. Niente, allora, di nuovo, un carissimo buongiorno a tutti. Dottoretti, oggi è 30 aprile e domani siamo nel primo maggio, che ovviamente hanno detto che il quattro, incominciamo già a uscire, cioè io esco sempre. Ma il quattro sono libero di uscire sempre, ma non è che mi posso allontanare. Nella zona, cioè nel paese, non posso andare a Poletto, non posso andare a Poviglio. Poi non lo sappiamo, fino al quattro quelle cose cambiano. Aspite, quello che fa è sicuro, speriamo di noi. Niente, ieri sera, mamma mia, una serata da UFO. Voi avete visto mai serate da UFO? Perché il grandissimo Marco Fratu, per me non è più un amico, per me è un fratello. Perché uno che si comporta bene con me, per me diventa un fratello. Ma non perché mi ha portato il vino, mi ha portato la birra, mi ha portato la grappa, mi ha portato la volica. Ieri sera qui era un incubo, ma dai, ma dai, ma dai, a dire e niente. A dire e niente. Io, il mio amico Vito, vicino di casa, e il mio nipone, ci siamo spaccati tre bottiglie di volica. Ma dai! Diciamo la verità, una bottiglia l'ho regalata a mio padre e a mio fratello, perché anche loro hanno l'anima. Due, non bastano neanche a me. E dalla mano, e dalla dò, 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 e dalla dò. Insomma la volica è sparita, è sparita. Questa giornica è aperta qua, ma adesso. La volica è sparita, è sparita. Come me l'ha portata, come me l'ha portata ieri, ha fatto volare. Cantare, cantare, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E niente, andiamo in risoluzione. Io sinceramente non ho neanche fame, cioè vi ne dette conto che io non ho fame. Quella grappa, talmente da spaccato. Ma, vabbè, è meglio cambiare il discorso. Guarda, la cosa è buona. È buona! Guardate. Guarda, io da stamattina a ora, questa è la seconda bottiglia che sto bevendo di acqua. Mamma mia! Tengo una secca! Che mi beverei una cesterna piena di acqua. Io uscio, siamo agli acqui. Guarda! 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 Sicuramente la birra mi è durata una settimana. Ma la voglio che, come venuta ieri, ha fatto una puttata fredda. Guarda! Mamma mia! Alla salute! Buono! Bella fresca! Quando la cosa è fresca e è bella, la gusti! Io, sinceramente, oggi non sono neanche fan. Però, purtroppo, purtroppo, su questo canale qui, come tutti i canali, sì, lo potrei fare un video di mangiare e non lo potrei fare. Perché, oh, poi, non devo essere obbligato a fare un video mentre sto mangiando. Potrei anche fare un video mentre racconto di un divertimento e roba varia. Però, per tenermi contenti, mai, mai, mio padre ha fatto le orecchie con la rucola. Oh, ma dai! E io, mio padre, mi ha detto a me, fai divertire il pubblico. No, non è per. Fai divertire il pubblico, almeno papà, così mi fai vedere i video a me e mi fai fare abilizzate a me, pure. E oggi, oggi, che è l'orale di pranzo, dobbiamo salutare, diciamo, un po' di persone, perché, sicuramente, se lo meritano. Innanzitutto, un saluto speciale a Marco Fratus, grandissimo, Giuseppe Solimena, Anna e Desiree. Perché io, Giuseppe Solimena, lo posso salutare come e quando voglio io. Se lo devo salutare. Perciò, ma non perché mi avete detto niente di male, niente. Poi salutiamo tutti i gruppi, ma tutti i gruppi, perché di gruppi ce ne ho. I gruppi che sono io sono talmente speciali come lo siete voi, alla Doc. Innanzitutto, salutiamo anche il manager Alessandro, alla Doc, e poi salutiamo i nuovi arrivati. Perché, giustamente, mi dicono, maestro, ma non mi puoi salutare, 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 ma non continuo. Cioè, nella testa mia, ormai, ho quelle voci, maestro salutami, maestro salutami, maestro salutami. E queste persone, queste persone qua, gli ho detto, ma io vi devo salutare. Sì, io vi saluto, diciamo bene. Però, la privacy è quella, perché li dovete mettere in coda. Se li mettete in coda, io vi saluto a salutare anche le altre persone. Allora, le persone, le persone da salutare, li devo salutare. Queste altre persone, diciamo, le facciamo passare per queste, per questa volta le facciamo passare. Ma la prossima volta, non per cattivare, perché voi sapete che io non sono cattivo. Io, in fondo, ho un cuore talmente buono, puro e sincero. Però la prossima volta vi dovete mettere in coda. Per questa volta io vi saluto, perché vi voglio bene. E andiamo in inizio alle danze. Da Brescello all'addocco romano, orecchiette che hanno penso pure il colore della rucola. Orecchiette con la rucola. Mamma! Speriamo che ci fanno. Cotto e mangiato. Buono! All'addocco! Madonna me! Madonna me! Madonna me! All'addocco! Arrico e mangiato a rete. Io non tengo fain. Però purtroppo qualche cosa devo mettere allo stomaco. No, la settimana prossima, il mese prossimo, la settimana prossima, così mi hanno detto. Però non voglio fare il nome. Il nome poi lo farò quando gli fanno questo pensiero con il cuore. La settimana prossima, il giorno 6. Quindi, mi ha detto questo carissimo amico all'addocco. Mamma! Ah! Mamma! Se mi porto un bel pacco grosso, non vedo l'olore, madonna me! Poca e turbido mangiare! Ah! I polpi di magiscordi, i mostardini! Madonna me! Madonna me! Madonna me! Madre! 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 Fantastico! quelle lattine, si vuole tutto, e meno male che gli stiano mangiati, meno male, ma non succederà mai più, basta, perché qui arriverà che mi devo spabolare il ferrato, il fegato non me lo voglio spabolare, no, basta, io ho 47 anni, devo fare l'8 settembre, l'8 settembre devo fare 48 anni, perché devo morire di spaccafegato? a me muore di un'altra malattia, ma non di fegato, il fegato è quello, la volta è quello là, a bordo, ciao ciao bambino, che se ne va, perché a me questo qui è un bambino, e il bambino devo cantare bene, ma dai, allora ciao ragazzi, quant'è sto bevendo oggi? e non vi dico stanotte, e chiedo il mio, e ora comincia a far caldo, e comincia a venire i piumini, i piumini, e io quelli là sono allergico, me lo manco mi metto la maschera, me lo manco, tutto ha freddato, tutto ha freddato! ragazzi, scusate, ma io oggi non so fame, perché, quando faccio, digerisco, non è che, sì, l'acqua mi fa digerire, ma digerisco, ci vedete, la volica, mamma mia! allora, niente, sai che faccio dopo, che finisco di salutare, che poi vi do anche la rivederci a stasera, mi vado a fare un giro col motore, a me il piumini sarà fresco, ci sarà fresco, poi dirissi il banano, camma mia! niente, allora, oggi, oggi, attenzione, oggi salutiamo Gianluca Romito e Michele Sentinella, alla DOC, poi salutiamo Rocco Petrea, attenzione, e Antonio Aresta Gabbare, mai, mai, mai! la grandissima Bari, alla DOC, e salutiamo anche tutta Bari, ammè! poi, un saluto speciale, grandissimo, da Grumo, che è che Grumo, sempre Bari, provincia di Bari, secondo me, o poi non so se è provincia di Bari, perché su queste cose sono un po' ignoranti, non tutti, l'ignoranza non ha un limite, giustamente, un saluto speciale, grandissimo, a Vincenzo Cirasola, da Grumo, è un saluto speciale, a tutta la famiglia, Cirasola, alla DOC, perché giustamente, quando è giusto, è giusto, niente, noi abbiamo salutato quelli del pranzo, stasera, dobbiamo salutare quelli della cena, che adesso non vale la pena salutarli, dobbiamo salutare stasera, se poi, stasera, mi chiamo qualche altra persona, e posso salutarlo, lo saluto, niente, fratelli e sorelle, signori e signori, dove stanno bene sui miei occhi, sia fra la vano, ragazzi, ragazze, amici, amiche, nemici, ma, vi amo, vi amo, vi amo nemici, vi amo, perché vi voglio bene, alla DOC, perché prima o poi i nemici, anzi, non prima o poi i nemici, i nemici, già stanno diventando miei fratelli, alla DOC, un saluto speciale a tutti i bambini del mondo, perché il mondo, come è così grande, tutti i bambini del mondo, alla DOC, è un saluto speciale a tutti i papà e tutte le mamme, e se i bambini vi chiedono, papà, un giocattolo, papà, una lecca-lecca, papà, un po' di patatine, accontentate i bambini, perché i bambini sono il nostro futuro, loro, loro, il mondo, il mondo, e tutta Italia, loro, secondo me, loro, la metteranno a posta loro, per come si deve, noi, siamo vecchie, una volta che facciamo vecchie, sì, adesso sì, abbiamo 47 anni, e una volta che arriviamo a 80 anni, se cambiamo, se da fecchie, allora, se un bambino vi dice, papà, dammi quello, papà, dammi quello, papà, dammi quello, io, se avevo i bambini, se avevo io e i figli, perché i figli, a me non mi piacciono, cioè, non è che non mi piacciono, piccolo tipo, manneggiasi, tic, manneggia, e non ho trovato ancora la donna giusta, quando ho trovato la donna giusta, se sono alla tasca, pucci, 1 euro, spendo per 10, 1 euro, perché quando io ho i soldi nella tasca, non sono di me, io faccio sempre bene, io faccio sempre, io, a me piace fare bene, anche se sono un po' poverello, piace fare bene, allora, per il momento io faccio bene a me, perché io, te ne vado la voce, mangiare la pupa, dai! Vabbè, cambiamo le scosche a me, e i soldi servono a tutti, come servono ai bambini, che, per prendere i giocattoli, come servono a voi, io dico soltanto una cosa, al carissimo Giuseppe Conte, l'unica cosa, voglio dire, è bassa, io con l'invalidità al 50%, che, ovviamente, voi sapete, la mandibla spaccata e i suoi ferri trappiantati, cioè le dita tagliate, guardate, un timbro perforato, sono in valida al 55%, se qualcuno, ma pure, credo, pure pulire la strada, pure pulire i cessi, scusate per il tempo, perché, a pulire i cessi, è anche un lavoro, eh, quei guanti, mascherini, vai per la mano, io, nelle polizie, sono un genio, cioè, ma stavo ne rendendo conto, io, se trovo un posto di lavoro, avrai, primo, sarei l'uomo più felice del mondo, secondo, vi, vi, regalerò sorrisi immensi, e, terzo, mi potrei anche trovare una bella ragazza che mi vuole bene, perché, giustamente, la ragazza, come la fai a trovare senza soldi? Per trovare la ragazza, ci vuole i soldi, io, se esco fuori, faccio così, non si capisce quale ragazza prendo io, e come fai senza soldi? Io mi faccio mandare l'è da loro, non esiste proprio, allora, niente, ragazzi, abbiamo scherzato, abbiamo risso, no, qui non abbiamo scherzato, qui abbiamo parlato seriamente, perché, quando io faccio un video, sono serio, mi piace essere serio, educato e gentilissimo, io vi auguro una buona giornata a tutti, di nuovo buon giovedì a tutti, 30 aprile, perché domani siamo già al primo maggio, che vi devo dire? Buon appetito a tutti, io, per il momento, guardate, guardate, questo qua ve lo dò a mio padre, perché sto a pensare se non so neanche cosa devo mangiare, il mangiare c'è, ma, non lo so, ragazzi, scusate, non lo so, niente, io mi degusto questa domicchia di occhi, moceo, si è la bici con la pescezza a fare, allora, con questa qua, la terza bottiglia, l'ho detto tutto, vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene, e, niente, vai papà, via, ehi, bella papà, dai, saluta papà, saluta, questa è dolmiglione, ma puoi andare fuori, vai fuori papà, saluta papà, saluta papà, saluta papà,